segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te pagina sul foglio di insomma tra poco la vedremo che parla naturalmente di lavoro buongiorno ventivogli buongiorno allora intanto bagnai quel condono quella norma la voto anche la lega no la lega ha votato tante cose che oggi dice nel 2018 di maio ci disse niente decreto sul ponte di genova se dentro non c'è il salvaischia e così ero di cerix ero perplesso sull'accorpamento qualcuno ha usato quel momento per sistemare altre cose però l'avete votato ecco io ho fatto la premessa cioè quella stagione politica ce la ricordiamo bene la lega ha votato tante cose perché nel contesto di un programma di governo e di una logica dove noi eravamo il partner di minoranza della maggioranza si stabilivano dialettiche del tipo di quella descritta dal dal vice ministro rixi c'è probabilmente del vero a nessuno credo più che a me duole sottolinearlo anche nelle parole dell'ex premier conte d'altra parte nel senso che sulla tragedia di ischia si intersecano diversi livelli di complessità uno dei quali è costituito dall'evento sismico del 2017 che quindi necessitava che si stabilisse appunto per snellire le procedure di ricostruzione si stabilisse un minimo di certezza del del diritto un bene che tutti vogliono a parole ma che qui in italia come voi ben sapete è particolarmente complesso poi da stabilire nei fatti questo è quello che mi sento di commentare di questa vicenda anche se sinceramente in un contesto come questo cercherei di fare un ragionamento più che l'avete legata proprio al condono fatto da craxi a quella a quella norma ce ne sono stati altri diciamo così nel berlusconi craxi adesso ieri sorgi li elencava tutti insomma nella nel corso se lei mi chiede perché abbiamo portato a 65 mila euro di fatturato la flat tax che era una cosa che volevamo noi e che ho fatto io come presidente della commissione finanze le so rispondere se lei mi chiede perché i 5 stelle hanno scritto una norma in quel modo le suggerisco se vuole avere l'interpretazione autentica di rivolgersi diciamo al colegislatore di maggioranza che all'epoca me l'avete votata e rixi oggi dice ero perplesso mi viene da pensare in quel momento potevate intervenire così come avete fatto sul reddito di cittadinanza cambiandolo rispetto a qual era l'idea originaria dei 5 stelle intervenire e dire va bene però non leghiamolo proprio magari a quella norma leghiamo una norma che ha maglie più strette no no guardi se vuole mi riprendo tutta la discussione parlamentare e torno con il faldone dei nostri interventi cose di questo tipo mi ricordo che ci fu un dibattito anche interno piuttosto piuttosto esteso su questo tema d'accordo dopodiché adesso suggerirei di ragionare sulla sulla dimensione sistemica di questo problema perché questo problema ci mette di fronte alla fragilità di certi territori che non è solo legata in quell'area lì per esempio al dato sismico e al dissesto idrogeologico in senso stretto ma è legata anche a tante altre caratteristiche per esempio per esempio quella della della presenza di crateri vulcanici insomma c'è una complessità che va gestita la domanda è perché non la si riesce a gestire e la risposta che spiega anche i silenzi di chi li ha amministrato per anni è legata sostanzialmente al tema del consenso cioè quello che credo che possa dare una speranza di cambiamento ai cittadini sono le parole del premier che stanno insistendo su un tema cioè quello che questo governo vuole fare le cose che si devono fare cioè vuole evitare di andare a cacciare il consenso per spostare avanti problemi che poi inevitabilmente si manifestano sempre allora bentivogli faccio intervenire lei poi vado da rossana russo che vedo